Bene, bene, siamo contenti, abbiamo caricato moltissimo fino a mercoledì e comunque piano piano stiamo migliorando il gioco, adesso già cominciamo a focalizzare le cose più dettagliatamente, andiamo più sul dettaglio, sui particolari e anche a scaricare dal punto di vista del lavoro fisico. Speriamo trovarci già sabato a Breccia un pochino più in panti e la settimana prossima a Novara nelle amichevole, non direi in forma di campionato perché non sarà così, ma che si veda un avvicinamento sia dal punto di vista della brillantesa che del gioco. Sì, bisogna aspettare, sono una squadra forte, questo è un bene per noi, abbiamo delle giocatrici delle nazionali forti, vediamo come arrivano, quando arriveranno, ovviamente sarà importante inserirle fin da subito perché sono giocatrici determinanti per noi, avremo poco tempo, dobbiamo essere bravi a cercare subito la intesa, i meccanismi e inserirli nella squadra. Grazie. 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 Grazie.